La nona corsa è il trofeo avvocato Augusto Calzolari, premio Due Torri. Sono in nove al via, uno Africa Jet, due Asia Jet, tre Asia Lewis, quattro Buffon ZS, cinque Borturan, sei Aria dei venti, seconda fila, sette Brooklyn Lux, otto Adamo Dipa, nove Achille BLV, corsa bellissima e tutta da gustare con l'autostart che li lancia davanti alle tribune. Africa Jet, Asia Lewis, Borturan e Aria dei venti a lottarsi il comando con Asia che insiste su Africa, largo Borturan, Aria dei venti che desiste mentre galoppa Brooklyn Lux. Africa Jet alla fine riesce a rientrare ad Asia Lewis, completa i primi 200 in 14,2 in mezzo alla pista Borturan, cerca posto alla corda Asia Lewis alle spalle di Buffon ZS e avanti ad Asia Jet. Africa Jet completa i primi 400 in 28,4 e sembra essere intenzionata a farsela davanti. In seconda pareglia esterna è Aria dei venti, poi in terza Adamo Dipa alla retroguardia Achille BLV. Si vanno a completare i primi 600 metri di corsa in 43,4 con una frazione in 15, muove dalla coda Enrico Bellei con Achille BLV che rifà il gruppo e cerca di portarsi a diretto contatto di Africa Jet. Borturan è sempre allo scoperto, Achille che insiste in mezzo alla pista, poi Aria dei venti che attende in Pariglia a 58 la metà gara. È arrivato Achille BLV a diretto contatto di Africa Jet, Buffon ZS lungo la corda ancora Asia Lewis, scala Borturan, non ne ha Aria dei venti al chilometro in 1,12 e mezzo. Africa Jet continua a replicare alle serrate di Achille BLV che ora diventano davvero pressanti, mette qualcosa avanti al rivale. Achille che sta passando prima della curva conclusiva nei confronti di Africa Jet, poi Buffon ZS, Asia Lewis e Asia Jet, 14,3 di là. È stato il parziale risolutore per Achille BLV per mettere via Africa Jet, si muove. Buffon ZS per mettersi in caccia il leader che però ha preso ormai margine davvero importante, Achille BLV che entra in retta arrivo isolato e in vantaggio. Viene forte a far l'arrivo, Asia Lewis che cerca di andare su Buffon che si difende, Achille BLV che vince nei confronti di Buffon ZS. Il terzo ancora una positiva, Africa Jet, poi finisce bene Asia Jet ma tardi. 29,2 la chiusa, 1,12,2 raguaglio cronometrico Achille BLV, Enrico Bellei che allena e guida per i colori del signor Salvatore Giannusa. Ennesima prestazione, monstre del figlio di Ganymede che dopo il secondo posto nel Duomo viene a vincere questo premio due torri in maniera davvero facile alla media importante di 1,12,2. Grazie. Grazie.